Namaste, io sono East Brave, bentornati all'ultimo episodio di Magic Duels Origins con le origini di Chandra mentre il tuo carnefice incombe su di te, il dolore per la perdita dei tuoi genitori e l'opprimente contro magia di Baral ti impediscono di reagire ma dentro di te brucia ancora l'ultima scintilla di disprezzo, impaziente di essere liberata probabilmente siamo contro i blu, da quello che viene detto appunto con il discorso di impedire di reagire ma vediamo un po' come ce la caviamo contro il capitano Baral e il suo cappuccio ok allora iniziamo con insegnamenti arcani che è un'incanta creatura scintilla di Chandra, fenice di Chandra e vandalo maniaco direi che può andare bene così in realtà non tanto ma speriamo di sì un muro d'acciaio che è un artefatto quindi mi va bene è un difensore quindi in teoria mi blocca ma io potrei passare oltre queste barriere perché è proprio lo scopo di questa storia devo dire che cercano di raccontare con il gameplay insomma con le carte stesse stanno raccontando una storia che è una cosa interessante ok mio turno subito giochiamo questa possiamo giocare il vandalo maniaco che mi porta a distruggere questa e avere una carta in gioco che è molto buona come cosa mio turno di nuovo va benissimo vandalo maniaco e distruggiamo il muro ottimo questo è p2 p2 e a questa creatura infelge un danno a un giocatore bersaglio quando tappa quindi praticamente posso attaccare senza 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 dover subire le conseguenze questa è quando una maga vincola flusso entra nel campo di battaglia tappa una creatura bersaglio rosso verde controllata da un bersaglio quella creatura non stampa durante lo stop fin tanto che controlli la maga quindi devo distruggere questa per fare in modo che possa stappare la mia creatura una creatura bersaglio che controlla infelge danno e parla di sua forza un'altra creatura bersaglio e a ogni avversario a ogni altra creatura e ogni altro avversario interessante questa questa è molto forte una cosa soprattutto se gli diamo anche il bonus direi che possiamo giocare lo sdegno mi distrugge la creatura e due danni al controllore potrei giocare anche lo sdegno su questa che così la mia creatura stappa magari non stappa subito però ok stappa nel prossimo turno va bene non hai terre non ha da giocare terre quindi a me va più che bene questa cosa potrei anche fare la fenice e viene vuoto di memoria neutralizza la magia se quella magia è neutralizzata in questo modo mettila in cima al tuo grimorio del tuo proprietario invece di metterla nel cimitero ok se quella magia è neutralizzata in questo modo mettila in cima al grimorio del suo proprietario invece di metterla nel cimitero ok quindi praticamente me la fa ritornare qua e adesso la pescherò va bene mi ha rallentato un po' l'importante è che abbia distrutto il muro che era la cosa fondamentale vorrà dire che giocherò di nuovo la cosa questa cos'è? è una terra che passaggio di farabutti se spendi 4 una creatura non può essere bloccata fin in questo turno ok ogni qualvolta infligge danno da combattimento a un giocatore pesca una carta ok però deve attaccarmi il giocatore quindi va bene ho pescato di nuovo la finicia giustamente potrei fare la scintilla di chandra mi aiuterebbe a distruggerla però potrei anche incantarla questa quanto costa l'incanto? 3 e questa quanto costa? 3 ok possiamo fare tutte e due possiamo giocare così questa vola quindi in realtà potrei anche incantarla questa e quindi questa è una 4 adesso e posso usarla per attaccare posso attaccare anche con tutto? no attacchiamo solo con la finicia tranquilli e comunque 4 danni glieli faccio e adesso se usiamo la scintilla di chandra possiamo fare 4 danni una creatura che controlla infligge danno pari alla sua forza e a ogni altra creatura e ogni altro avversario ogni avversario quindi vuol dire che faccio 4 danni a questo e 4 danni a questo che non è malaccio decide di attaccarmi? no decisamente questo è un gelo invalidante tappa una creatura salio quel permanente non stappa e pesca una carta quindi mi fa tappare qualcosa in questo caso questa immagino spero non ho la finita no la finicia aia quindi la finicia era già tappata e non me la far ritappare un'altra volta ancora meglio se lo faccio sull'elementale di fuoco la scintilla giochiamo anche la terra in più e attacchiamo con questo ok si para queste due vanno via tutte e due sta giocando pochissime terre infatti ne ha veramente solo due mi gioca un'altra ladra ai segreti io potrei usare la scintilla di chandra e tra l'altro questa è un'altra combinazione interessante perché l'incendia pira e prende un più uno dall'attacco ogni rosso che gioco e con questa praticamente mi permetterebbe vabbè è un po' difficile che succeda una cosa di questo tipo ma mi aiuterebbe molto per spianarmi la strada posso fare se faccio adesso questa cosa gli faccio cinque danni manca un danno fondamentalmente posso fare così usarlo non conviene che lo faccia adesso conviene che lo faccia al prossimo turno attacchiamo con lui e in teoria dovrebbe pararsi e se no il prossimo turno muore va bene siamo tranquilli così il prossimo turno eh no avrei dovuto farlo più no vabbè ci metteremo forse un turno in più ancora altra terra no un'altra si un'altra terra ma non una terra che è granché di buono allora se faccio adesso gli faccio 11 danni se uso adesso questa cosa quindi non basta ancora quindi attacchiamo tranquilli tranquilli 5 danni e il prossimo turno gli facciamo 6 in realtà questa quanto costa? ah ok posso dare un più 3 a questa e quindi farebbe 4 quindi usare la scintilla di candra su questa abbaffata sarebbe 4 danni e non 5 quindi costa troppo vabbè abbiamo vinto abbiamo vinto tranquillamente ok rimandare che mi neutralizza una magia me la fa mettere nel cimitero vabbè comunque ho 6 di attacco anzi no me l'ha fatta ritornare in mano quindi io posso tranquillamente rigiocarla e attacco direttamente con tutto quindi combattimento facile abbiamo avuto la fortuna appunto è forse una delle cose brutte di magic che se ti va male pescare le terre hai perso automaticamente in questo caso lui ha perso in questa maniera qua e quindi ce l'abbiamo fatta e il nostro caro bel maghetto è andato a meno 7 ok e ce l'abbiamo fatta abbiamo sconfitto anche l'ultimo combattimento e vediamoci il filmato finale grazie a tutti come succede come succede per tutto appunto Chandra in questo caso ha usato la sua magia per trasferirsi e fare un giro da planeswalker e leggiamo appunto è la minaccia di morire per mandato il capitano Baral che accende la scintilla di planeswalker in una vampata esplosiva ti lasci Kaladesh alle spalle il tuo arrivo fiammeggiante sul piano di regata attira l'attenzione dei monaci del fuoco che dimorano nel torrione Keral viene accolta nel loro monastero dove inizia il tuo addestramento da piromante quindi abbiamo il nostro addestramento e Chandra effettivamente diventa Chandra quindi molto interessante abbiamo visto anche questa storia la quarta storia di 5 e nella prossima nei prossimi 5 episodi vedremo l'ultimissima storia con Nissa che è un altro personaggio molto 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 famoso e questa volta siamo su Zendikar un altro dei piani come vedete più o meno tutti vengono da un posto diverso in questo caso vedremo appunto Zendikar con Nissa del colore verde ci vediamo quindi nel prossimo episodio nel prossimo let's play e come al solito io sono East Brave Namaste Be Brave un prossimo episodio di un prossimo episodio di un prossimo episodio Grazie a tutti